Dalla nascita del sole, fino al suo tramonto, vorrei lodarti signor, lodarti signor, con tutto il cuor, con tutto il cuor, TGAC! Buonasera e benvenuti a questa nuova edizione del TGAC. Allora, questa settimana vi presentiamo un altro dei progetti che stiamo sostenendo durante questo periodo di quaresima. Con questo progetto andremo ad aiutare le famiglie di profughi del Brasile, nella capitale di Boa Vista. Queste famiglie sono delle famiglie che sono state costrette a scappare dalla loro città e dal loro paese perché vivevano delle situazioni di difficoltà e sono andate a vivere in questa città, però non hanno una casa, sono senza casa, sono senza lavoro. E quindi con i soldi che raccoglieremo durante questa quaresima andremo anche ad aiutare queste famiglie perché possano trovare un lavoro e possano farsi una casa. E lì in Brasile, ad aiutarli, c'è già Don Enrico Lovato, che è un prete vicentino, quindi della nostra diocesi. E voi vi chiederete, come facciamo ad aiutare questi amici profughi? Allora, potete raccogliere qualche moneta in queste scatoline che si possono costruire, le trovate qui in chiesa, si possono poi costruire e sopra c'è un buchetto proprio per mettere qualche moneta, di risparmi magari da qualche offerta, qualche cosa che vogliamo risparmiare, di cui facciamo a meno. Oppure potete costruire una busta, vi insegno come. Prendete un foglio grande a tre oppure potete prendere anche un foglio a quattro più piccolo. L'importante è piegarlo a metà per cui poi potete ritagliare un cuore. Ok, quindi ritagliamo, vediamo se ce la faccio. Ok, questo è un cuore grande, così, in modo di ottenere un cuore. Se lo fate più piccolo diventerà così. Poi si può piegare per formare una busta, in che modo? Allora, si piega a metà, verso il centro, i due lati. Poi si raccoglie in su, in questo modo, si gira, si capovolge e si forma una bustina. Quindi se volete potete metterci della colla proprio qui sotto, in modo che rimanga appiccicato, e poi si può rifiudere. Alla fine, dopo che avete raccolto le monete o i soldi di carta che avete, potete chiudere, magari metterci qui un adesivo oppure un pettetto di scotch. Qui davanti potete scriverci un pane per amor di Dio, in modo che si capisca che è per il progetto. Raccoglieremo tutte queste bustine, oppure queste scatole, il giovedì oppure il venerdì santo, quando verrete in chiesa. In modo che vadano ai destinatari, così aiuteremo tutti. Bene, è tutto. Ciao da tutti gli animatori della CR. Bene, cari bambini, adesso volevamo salutarvi, volevamo dirvi che per le prossime settimane ne approfittiamo e prendiamo un po' di pausa, anche noi animatori, visto che siamo zona rossa. Ma contiamo di rivederci dopo Pasqua tutti quanti belli carichi, belli gioiosi, dopo che Gesù è risorto il giorno di Pasqua. E mi raccomando, contiamo di rivederci comunque durante le Santemesse, nelle prossime Domenica delle Palme e la Domenica di Pasqua, dove magari aiuteremo anche ad animare le feste con le nostre belle voci, le vostre belle voci. Buona Pasqua a tutti gli animatori e ci vediamo presto. Buona Pasqua! Buona Pasqua!